Non mi piace mamma biologica, mi piace mamma di pancia, perché comunque lei mi ha tenuta nella pancia, mentre la mia mamma di ultimo mi piace chiamarla la mia mamma di cuore, perché è stata lei che mi ha cresciuta, è stata lei che mi ha parte di vedere le persone che oggi lo sono. E quindi la mia mamma di pancia ha partolito in questo ospedale e aveva già scelto di lasciarmi in questo istituto, tant'è vero che tutta una settimana dalla mia nascita sono stata lasciata in questo, non uso il termine abbandonata perché è un termine che non mi piace, anche se purtroppo fa parte della vita di noi bambini, adottili, però diciamo che ha lasciato in questo istituto dove sono rimasta da due anni. Due anni in cui io sono cresciuta con gli altri bambini e quindi la mia realtà, la mia famiglia era l'istituto, erano questi bambini, erano le sue tettine che sono presi pure in me.